Sicurezza sulla strada. A Rubano un convegno per fare il punto della situazione. Un importante momento di condivisione con tutti quanti quei soggetti che a vario titolo possono in qualche modo frenare quella che è la tendenza sulla nostra provincia. La provincia di Padua ad oggi risulta essere la provincia veneta col più alto numero di incidenti e col più alto numero di vittime. Allora non ci si poteva non interrogarsi su che cosa le istituzioni a vario titolo possono fare per cercare di limitare il fenomeno. Prefettura di Padua, provincia di Padua, ACI, associazioni vittime della strada, polizie locali, polizie nazionali, tutte insieme per cercare di porre qualche rimedio. Dobbiamo tutti capire che quando ci mettiamo alla guida abbiamo una responsabilità verso noi stessi ma specialmente verso gli altri. Dobbiamo quindi educare i nostri giovani perché i comportamenti siano responsabili, perché certe forme di esibizionismo sono deleterie, perché l'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche quando si guida è estremamente dannoso. Quando si interviene sulla sicurezza stradale bisogna farlo con cognizione di causa e bisogna farlo seguendo regole precise. Quindi su questo possiamo ancora fare molto. Grazie. Grazie.